Buonasera, ben ritrovati alle 13.30 in Un punto in diretta dagli studi di Telepace per oltre la cronaca uno spazio informativo. Anche oggi sono tanti gli argomenti che cercheremo di raccontarvi, di approfondire insieme a voi. In primo piano la visita di ieri, una visita sorpresa venuta ieri sera dopo i lavori sinodali verso le 19 del Papa, le stiamo vedendo anche in video, che si è arrecato a visitare il Senzatetto presso il nuovo dormitorio inaugurato nei giorni scorsi dall'immusonire apostolica in via dei penitenzieri, nei locali messi a disposizione dalla cura generalizia della Compagnia di Gesù. Questa è la notizia che riferisce Radio Vaticano. È stato un momento di grande sorpresa. Il Papa, come vedete, ha voluto stringere la mano a tutti, Senzatetto, una trentina, per lo più italiani, tra l'altro quelli ospitati ieri sera. Ricordiamo che questa sede si chiama Dono di Misericordia. Si trova nelle vicinanze dell'ospedale Santo Spirito. È stato aperto il 7 ottobre scorso nella memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Rosario. A gestirlo i Gesuiti insieme alle suore di Santa Madre Teresa di Calcutta. Tutti i lavori, tra l'altro, di questa realtà sono stati finanziati dall'elemosineria apostolica, cioè attraverso le offerte che provengono dalla distribuzione delle pergamene con la benedizione del Papa. e dalla generosità dei cittadini. Un bellissimo gesto quello del Papa e proprio con queste immagini abbiamo voluto aprire questa mattina il nostro spazio informativo. Ed ora proseguiamo parlando invece di strettissima attualità. Anche oggi forti piogge nel Veneto, ma nei giorni scorsi delle vittime, nel Beneventano 5 morti e anche nella nottata strade, campagne allagate nell'area di Capua, nel Casertano, per la piena del fiume Volturno. Grandissimi criticità e parliamo di questo e poi della campagna Io non rischio della protezione civile assieme proprio a Francesca Maffini, capo ufficio stampa della protezione civile. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, maltempo, strade allagate e situazioni sempre difficili per quanto riguarda, sempre più frequenti tra l'altro. Perché secondo la protezione civile? Quali sono le cause? Ma ci sono fenomeni ai quali in qualche modo stiamo assistendo con sempre più frequenza, ai quali in qualche modo ci dobbiamo abituare, ma soprattutto dobbiamo abituarci sia al concetto che un rischio zero probabilmente non sempre e non ovunque riusciremo ad averlo, e il fatto che i fenomeni naturali hanno un margine di incertezza dovuti ai fenomeni stessi, alle caratteristiche dei fenomeni stessi. E' per questo che il sistema di protezione civile, il Dipartimento, le organizzazioni di volontariato e tutta la comunità scientifica, ormai nel quinto anno questo, puntano tanto molto sulla consapevolezza, sull'informazione ai cittadini, per far sì che in situazioni difficili di emergenza ognuno prima di tutto sia in grado di riconoscere i segni dei rischi e di mettere in pratica quei comportamenti, a volte anche i semplici, banali, che però consentono di non rischiare. Si parla sempre più frequentemente di cultura del rispetto del territorio, che vuol dire più o meno condoni edilizi, più attenzione anche per quanto riguarda la situazione delle strade. Ecco, è questa l'emergenza, su questo volete soprattutto sottolineare l'impegno della protezione civile anche con la campagna che avete presentato questa mattina a Roma, Io non rischio? La campagna Io non rischio è prima di tutto una campagna basata sul rapporto costante in situazioni ordinarie di emergenze tra i cittadini, il volontariato, i sindaci, le regioni e il sistema tutto. In qualche modo punta a recuperare quella fiducia che a volte sembra un po' persa e aiutare il cittadino stesso a identificare sul proprio territorio chi sono le autorità cui può fare riferimento, cui deve fare riferimento in ogni momento e anche con la discesa in piazza dei volontari dalle organizzazioni nazionali ai gruppi comunali di protezione civile consentire ai cittadini di avere un riferimento nei propri concittadini che sono semplicemente persone che prima forse di loro e meglio di qualsiasi altro hanno capito l'importanza di conoscere i rischi, di attrezzarsi e mettono a disposizione degli altri tempo e risorse gratuitamente. Quindi è una campagna per far conoscere un po' anche il lavoro della protezione civile, sempre più presente tra l'altro nel territorio, sul territorio, dalle grandi città ai piccoli paesi? Sicuramente andando in piazza entrando in contatto con i volontari che si sono formati ma anche con i sindaci laddove scenderanno in piazza con i responsabili delle strutture tecniche comunali il cittadino probabilmente capirà che la protezione civile non è qualcosa che sta a Roma ma è presente sul territorio sempre 365 giorni l'anno e oltre a far conoscere il sistema che cos'è protezione civile in queste oltre 400 piazze si discuterà con termini molto semplici, comprensibili da tutti sul rischio sismico, sul rischio maremoto e sul rischio alluvione. E soprattutto cosa ancora più importante sarà possibile per i cittadini capire che cosa fare prima, durante, dopo le varie emergenze. Grazie mille, grazie mille per questa sottolineatura, per questo intervento a Francesca Maffini e noi proseguiamo andando a vedere lo spot per queste due giornate della campagna Io non rischio. Vivi in una zona a rischio sismico? In spiaggia, sai riconoscere l'arrivo di un maremoto? Cosa fai se c'è un'allerta per rischio alluvione? Il 17 e il 18 ottobre i volontari di protezione civile ti aspettano in più di 400 piazze con la campagna informativa Io non rischio. Scopri la piazza più vicina sul sito iononrischio.it Cambiamo argomento, cambiamo pagina, domenica 18 ottobre, giornata missionaria mondiale. Il tema di questa 89esima edizione è dalla parte dei poveri. Ebbene, rappresenta l'opera e la testimonianza di tanti missionari che oggi lavorano fianco a fianco del clero e dei religiosi locali in tante parti del mondo perché lo spirito missionario diventi patrimonio di tutti. Quanto testimonia anche la storia di Eliseo Tacchella, missionario comboniano da oltre 30 anni in Congo che questa mattina ha incontrato per noi Roberto Zoppi. Allora, mi dicono in regia che ci sono dei problemi tecnici. ...intervista nella lingua che conosce da tanto tempo, 35 anni. No, io come lingua parlo lingala. Adesso nella nuova zona dove sono, c'è i suoi idri, ma lo sto ancora imparando. Ha il volto di sacerdoti come padre Eliseo Tacchella la missione oggi. Una missione che è cambiata molto nel tempo, rimanendo però fedele a quell'invito fatto da Gesù ad andare per le strade del mondo per testimoniare la bellezza e la gioia del Vangelo. Un invito rivolto a tutti che ci riguarda da vicino, come sottolinea il Papa nel suo messaggio per la giornata missionaria mondiale. Che cosa deve fare oggi come prima cosa un missionario che si appresta ad andare naturalmente in terre di missioni, a dialogare con chiese anche cresciute negli ultimi tempi? Ma credo che la prima cosa è chiaro è mettersi all'ascolto, no? All'ascolto delle situazioni, della gente. Vedere un po', cioè mettersi, entrare nella nuova cultura, nella nuova mentalità. E con la gente crescere, far crescere la gente. Non più come il protagonista, ma colui che è dietro, no? Il pastore è dietro, no? Colui che fa crescere. Quindi io vedo, per esempio, una diocese dove sono io, a Butembo, nell'est del Congo. Il Vescovo ci ha chiesto a noi Comboniani una cosa ben particolare, che per me è una novità assoluta in Africa. Dice, io voglio i Comboniani nella mia diocesi, non per la pastorale, non perché ci abbiamo già abbastanza preti, ma per l'animazione missionaria. Cioè aiutare questa chiesa a aprirsi al mondo. La presenza oggi dei missionari in contesti difficili del nostro pianeta è un segno distintivo di una comunità, quella dei credenti, che prende decisamente posizione a fianco di chi soffre la povertà, la guerra, il soppruso, convinti che, come ricorda Papa Francesco, non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza pace. Un tempo soprattutto evangelizzatori, oggi anche un po' più inseriti in un tessuto civile che, come dice Papa Francesco, ha bisogno di un humus, di un terreno, delle persone che stiano a contatto con la gente, che respirino e che sentano l'odore delle pecore, per così dire. Com'è cambiato il ruolo del missionario, insomma? No, credo che è sempre evangelizzazione. Cioè Gesù, il Vangelo cos'è? È far crescere l'uomo, no? Fare presente l'amore di Dio agli uomini. Quindi se lo fa attraverso la parola, attraverso le azioni, attraverso i gesti, non c'è, penso, questa divisione, questo è Vangelo, questo invece è sociale. Credo che tutto è... L'importante è lavorare per la crescita, l'importante è lavorare perché l'uomo trovi delle motivazioni, perché possa vivere bene, questo è importante. Oltre alla cronaca prosegue, dopo la giornata missionaria, oltre alla cronaca prosegue parlando di un'altra giornata importante che sarà celebrata sempre domenica prossima, la giornata europea contro la tratta di esseri umani. E nei giorni scorsi a Marghera, in provincia di Venezia, scusate, si è svolto un convegno davvero particolare che ha avuto come tema il fenomeno della tratta e dello sfruttamento grave di persone. Cercare di contrastarlo, cercare di creare delle realtà, delle realtà cittadine comunali che diano delle risposte, diano degli aiuti concreti. Di questo ne parliamo con Barbara Penzo, dell'Unità Complessa della Protezione Sociale e Comunitaria del Comune di Venezia. La dovremo avere al nostro telefono. Pronto? 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 Buongiorno. Stavamo dicendo... Pronto? Ci sente? Buongiorno. Sì, la sento, la sento. Buongiorno. Bene, buongiorno. Stavamo dicendo che appunto nei giorni scorsi a Marghera si è svolto questo convegno sulla tratta e sullo sfruttamento grave delle persone. Non solo sfruttamento sessuale, ma sfruttamento anche lavorativo. Lavorativo. E il Comune di Venezia è un po' il capofila, perché è l'unico Comune italiano ad avere una equip proprio predisposta per togliere le persone dallo sfruttamento, dalla tratta. Non è così? Sì, sì, assolutamente così. Allora, il Comune di Venezia in realtà è impegnato da oltre 15 anni in questa strategia di lotta alla tratta e lo fa grazie al finanziamento del Dipartimento, ma soprattutto attraverso gli strumenti legislativi dell'articolo 18 e dell'articolo 13. E ovviamente del testo unico 286 per quanto riguarda l'articolo 18 e della legge 228 del 2003 rispetto all'articolo 13. e noi, sì, siamo forse un'equip, siamo tutti educatori e siamo un'equip molto particolare per il semplice motivo che è l'unica esperienza in Italia in cui un'amministrazione comunale ha appunto, come si diceva prima, come diceva benissimo lei, ha un servizio proposto proprio a questo. Noi ogni anno partecipiamo al bando del Dipartimento e riusciamo attraverso ai finanziamenti di attivare tutta una serie di strategie per l'emersione delle situazioni di sfruttamento e della tratta in generale, quindi declinatasi poi in vari ambiti quale sfruttamento alla prostituzione, lavorativo, accattonaggio, economie legali e anche organi, insomma. Quindi, voi vi occupate di sfruttamento a 360 gradi, quante persone avete aiutato? Siamo di tratta, il nostro è della tratta a scopo di sfruttamento, di grave sfruttamento. In questo anno, nello specifico, proprio in occasione della giornata contro la tratta, la giornata europea contro la tratta di esseri umani che siamo soliti sempre celebrare con delle iniziative di sensibilizzazione o di formazione, con dei cineforum, quest'anno abbiamo voluto concentrarci su quello che è un fenomeno che sta prendendo sempre più, come dire, espansione che quello dello sfruttamento lavorativo. Quali risultati ha dato questo progetto? Ma, risultati in termini di presa in carico, in termini di emersioni. Allora, noi nell'arco di circa due anni abbiamo avuto circa 465 emersioni e nell'arco del 2014-2015 siamo riusciti a avviare oltre 200 programmi di protezione sociale con una grande soddisfazione perché oltre la metà di queste persone che abbiamo avuto in carico siamo riusciti a includere attraverso un'autonomia lavorativa e conseguentemente un'autonomia abitativa a chiudere il programma includendole e integrandole nel contesto e nel mercato dell'economia. È possibile esportare il vostro progetto, il vostro lavoro anche in altri comuni italiani? Perché solo a Venezia? Noi siamo frutto di un grande investimento che l'amministrazione e le politiche di circa 20 anni fa dell'assessorato, appunto le politiche sociali di almeno una ventina di anni fa ha voluto investire sulla figura poi dell'educatore e sulla figura del sociale anche su questo fronte. Ci sono comunque altri progetti articolo 18 in Italia gestiti dal terzo settore e con un coordinamento anche degli entri. Ecco, la diversità e la diversità fa solo che la parte noi che abbiamo nella Regione Veneto abbiamo la fondamentale come dire rete e soprattutto per quel che riguarda l'emersione dove il Comune di Venezia è in realtà attiva l'equipo di valutazione ed ha il territorio regionale. E poi, come si diceva prima perché ha comunque delle figure importanti come quelle che sono gli educatori professionali che coordinano questi gruppi di lavoro senza togliere, tra l'altro, che il Comune di Venezia gestisce il numero verde nazionale contro le vittime di trafda. Ecco, con questa ultima notazione la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie per questa testimonianza. Grazie per queste parole. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Ed ora proseguiamo. Passiamo ad un altro argomento di stretta attualità. Parliamo di vaccinazioni. Dopo l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità sull'aumento delle famiglie che rinunciano a vaccinare i propri figli e dopo anche il caso di quella bimba di Cesena che ha contratto la pertossa e poi non essendo vaccinata ha attaccato, ha contagiato tutta la famiglia e poi sua mamma ha lanciato questa petizione sul sito change.org ecco, anche le regioni ieri si sono poste il problema e una delle decisioni è stata quella magari di vietare la scuola ai bimbi che non sono vaccinati. Ecco, su questo grande argomento delle vaccinazioni perché sono state liberalizzate prima adesso invece sembra che sia necessario vaccinare i bambini ecco, su questo argomento Roberto Zoppi ha sentito questa mattina la dottoressa Giuseppina Napoletano responsabile del servizio vaccinazioni dell'Ulss 20 di Verona. È come sfondare la classica porta aperta chiedendo il parere agli addetti ai lavori riguardo l'obbligatorietà delle vaccinazioni per i nostri bambini. La necessità di non abbassare la guardia è ribadita dalla dottoressa Napoletano componente del gruppo di lavoro per le vaccinazioni della Regione Veneto che da questo punto di vista non ha dubbi. Nel Veneto stiamo facendo un grosso lavoro tutti i nostri bambini vaccinati e poiché sono in un'anagrafe vaccinale informatizzata noi sappiamo delle nostre coperture che sono veramente reali. Comunque l'abbassamento c'è e bisogna un po' stare attenti perché per alcune malattie tipo il morbillo che ancora c'è può dare dei grossi problemi dei grossi effetti collaterali alla malattia. Attenti anche agli adulti perché poi si comincia con i bambini ma è contagiosa. Certo proprio per il morbillo si sta manifestando soprattutto negli adulti che non sono vaccinati e quindi negli adulti queste malattie sono molto più pericolose. Anche nella nostra ULS proprio un paio di anni fa abbiamo avuto un grosso problema di una reazione cioè di una complicazione da morbillo in una ragazza di 32 anni che ha avuto una neurite ottica e per sei mesi non vedeva più quindi voglio dire non sono malattie da sottovalutare. Lei non era vaccinata e si è presa questa malattia in un'altra regione e ha avuto questa situazione molto grave. I vaccini sono fra le scoperte scientifiche più importanti per il genere umano eppure continuano ad essere guardati con sospetto da una parte dell'opinione pubblica. L'aumento del numero di famiglie che non somministra i figli neppure quelli obbligatori ha generato l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità perché calano le percentuali di bimbi immunizzati e si rivedono così casi di morte evitabili per malattie come morbillo e per tosse. I pediatri sono alleati? I pediatri devono essere nostri alleati perché vedono le mamme con i bambini piccoli appena nati per cui loro devono collaborare con noi in modo molto importante per spiegare cosa sono le vaccinazioni e l'importanza delle vaccinazioni. Stiamo lavorando con loro da molti anni per cui si è fatto molti passi avanti quindi in questo momento abbiamo una buona collaborazione. Da ora in poi ci serve una buona collaborazione anche con i medici di medicina generale perché è importante anche la vaccinazione negli adolescenti penso ad esempio ai richiami per la difterite tetano penso alle meningiti che facciamo ai quindicenni e quindi stiamo iniziando un percorso anche con i medici di medicina generale. Di fatto oggi i genitori sono molto preoccupati di quello che può succedere delle reazioni delle controindicazioni come spesso andiamo a leggere quando prendiamo un medicinale. Sì mentre per i farmaci non ci preoccupiamo perché ci devono guarire quindi anche se possono dare degli effetti collaterali non ci preoccupiamo. Per le vaccinazioni andiamo a vaccinare bambini che stanno bene e quindi la preoccupazione aumenta. È stata fatta anche un'indagine e si è visto che tra le preoccupazioni dei genitori era proprio quello degli effetti collaterali. Di fatto i vaccini sono dei vaccini sicuri se nell'anamnes è il momento in cui prima della vaccinazione emerge qualche problema qualche allergia qualche controindicazione insomma viene fatta una valutazione molto più approfondita con specialisti per cui direi che possiamo stare tranquilli passiamo ad un altro argomento domenica prossima grande festa a Padova per l'entrata del nuovo vescovo il centoventitresimo per la diocesi Patavina Monsignor Claudio Cipolla diretta su Telepace a partire dalle quindici e quindici la giornata dell'ingresso del nuovo vescovo sarà scandita da alcuni passaggi il vescovo ha scelto di partire dall'opera della providenza Sant'Antonio di Sermeola di Rubano uno dei simboli per eccellenza della carità della chiesa di Padova da lì Monsignor Cipolla partirà per raggiungere poi la cattedrale di Padova dove ci sarà l'accoglienza e la solenne celebrazione eucaristica d'inizio di ministero pastorale in diocesi di Padova ricordo che la basilica cattedrale sarà aperta ai fedeli a partire dalle ore quattordici la diretta su Telepace a partire dalle quindici e quindici ed ora veniamo a noi veniamo ad una festa oramai imminente per le nostre emittenti per Telepace la festa della patrona Maria Stella dell'Evangelizzazione andiamo ad ascoltare la storia di questa festa dalla voce del nostro direttore Monsignor Guido Todeschini Don Guido si avvicina una festa un appuntamento molto importante per Telepace le chiedo qual è il significato appunto di avere oggi una patrona dobbiamo ringraziare un santo che è San Giovanni Paolo II perché io non potrò mai dimenticare quel giorno eravamo sull'aereo eravamo di ritorno mi pare da un viaggio in Africa quando Giovanni Paolo II interpellato da uno dei giornalisti italiani si sentì chiedere la storia di Mezzugorie naturalmente il Papa non poteva dare risposte e lì eravamo nel 1992 e il Papa invece di rispondere al giornalista disse ma c'è un titolo che la Chiesa ha dato a Maria dice e chi lo conosce e continuava a ripetere questa frase Paolo VI nel 1975 chiamò Maria col titolo di stella dell'evangelizzazione ma chi lo sa questo chi lo sa e facendo un passo in avanti è venuto verso di me mi ha dato una pacca sulla spalla ha detto toccate le pace far conoscere Maria con questo titolo con questo nome ed è nata così è nata la devozione è nata così anche la festa perché il Papa ha detto tocca telepace farla conoscere nel mondo il Papa dice scriverà anche una preghiera e telepace la diffonderà e così noi ogni anno celebriamo il 21 di ottobre giorno nel quale nell'aula Paolo VI Giovanni Paolo II ha benedetto l'icona come sarà quest'anno la celebrazione quest'anno come del resto ogni anno sarà particolarmente solenne anche perché ben intanto c'è da dire che sarà presieduta l'Eucaristia sarà presieduta dal Vescovo di Verona quindi quando il Vescovo celebra una messa solenne si chiama pontificale ecco il pontificale sarà presieduto dal Vescovo di Verona ma durante il pontificale i membri perché nel frattempo è nato anche un cenacolo sempre su suggerimento di San Giovanni Paolo II fatto di chierici cioè sacerdoti e laici ecco dicevo i membri del cenacolo rinnoveranno i loro voti voto di castità voto di povertà voto di obbedienza e voto di disponibilità al Papa e al Vescovo per quanto riguardano i mezzi di comunicazione sociale ricordiamo dunque la festa di Maria Stella dell'Evangelizzazione il prossimo mercoledì 21 ottobre in chiusura di oltre la cronaca andiamo a ricordare che oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra quest'anno tra l'altro lo dicevamo anche durante la nostra diretta doppia corsia si celebra nel settantesimo anniversario della fondazione della FAO e questa mattina all'Expo di Milano grande incontro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-Mund insieme sul tema nutrire il pianeta inseparabile dalla pace sono lieta di celebrare con voi la giornata mondiale questo lo ha detto il Presidente della Repubblica nutrire il pianeta è una sfida epocale dove le regole della finanza prevalgono sull'economia reale la fame ha detto Ban Ki-moon è un'ingiustizia terribile noi siamo qui per rafforzare il nostro impegno contro la fame nel mondo intero catturiamo lo spirito di Expo e lavoriamo insieme per garantire cibo al mondo intero e proprio per questa mattinata ha fatto giungere il suo messaggio anche il Papa viviamo un'epoca in cui l'affannosa ricerca del profitto la concentrazione su interessi particolari e gli effetti di politiche ingiuste rallentano le azioni all'interno dei paesi o impediscono una cooperazione efficace in questo senso rimane molto da fare dice Papa Francesco per quanto riguarda la sicurezza alimentare che appare ancora come un obiettivo lontano per molti ma anche siamo testimoni spesso muti e paralizzati di situazioni che non è possibile legare esclusivamente a fenomeni economici poiché sempre di più la disuguaglianza dice il Papa è l'effetto di quella cultura che scarta ed esclude tanti nostri fratelli e sorelle della vita sociale non considera la loro capacità e arriva a ritenere superfuo il rapporto alla vita della famiglia umana parole forti quelle pronunciate proprio lanciate questa mattina durante la giornata mondiale dell'alimentazione a Milano chiudo con un'ultima annotazione ricordo che domenica pomeriggio a Verona in piazza dei signori durante la manifestazione Librar Verona sarà presente il Cardinale Sacco Patriarca di Babilonia dei Caldei che terrà alta la fiaccola della speranza e racconterà un po' la situazione attraverso il libro pubblicato dalla EMI più forti del terrore e noi poi lunedì vi parleremo di questo incontro e con questa notazione andiamo a chiudere oltre la cronaca grazie per averci seguito torniamo lunedì puntuali alle 13.30